Ben trovati da Tg della mobilità. Grandi eventi lunedì in Vaticano dalle 12 alle 19 e 30. Il Papa incontrerà i giovani che si raduneranno a Roma da tutta Italia per il pellegrinaggio degli adolescenti. Sono attese 57 mila persone. Il Campidoglio sta pianificando il piano dei trasporti d'intesa con la Questura, la Polizia Locale e l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. In città è previsto l'arrivo di 500 mezzi, la maggior parte dislocati nell'area delle stazioni Cinecittà, su Bagusa, Nagnina, della metro Adali. I giovani pellegrini potranno raggiungere con la metro la fermata Ottaviano-San Pietro. Per i pullman che accompagneranno i ragazzi disabili sono previsti spazi sul lungotevere delle Armi in via dei Bastioni di Michelangelo, in via Le Vaticano e in via Nuova delle Fornaci. Grazie a tutti.